È durato circa 60 minuti, l'ultimo allenamento in vista della sfida più sentita ai tifosi nerazzurri, quella con il Milan di domani sera. Un allenamento al quale hanno presenziato il direttore tecnico Marco Branca, il direttore sportivo Piero Usilio e il consulente Gianfranco Bedin. 60 minuti nei quali ha lavorato anche con la prima squadra il centrocampista ganese della primavera, classe 93 Alfred Duncan. E 60 minuti che sono iniziati con una prima fase di messa in azione a secco, quindi senza il pallone, poi esercitazioni tecnico-tattiche, ovvero menù della giornata principalmente basato sulla tattica. L'obiettivo è quello di essere preparati al meglio al gioco del Milan e di preparare tatticamente la partita contro i rossoneri. Durante una delle ultime partitelle Diego Forlan ha rimediato una sofferenza da trauma diretto alla caviglia, per Poli invece terapie, fisioterapie, lavoro specifico sul campo a causa di una contrattura all'adduttore. Programmi individuali di recupero per Castagnossi e Chivu. Infine è perfettamente riuscito l'intervento di Polizia al tendine d'Achille della gamba sinistra, al quale è stato sottoposto una tarda mattinata di Chistankovic presso le strutture della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia. Insomma, in buona sostanza un grande in bocca al lupo a Dejan Stankovic, che non potrà più di fatto concludere dal punto di vista tecnico la stagione con i compagni, ma con solo due partite non ci sarà tempo per recuperare. Questo per quanto riguarda l'allenamento odierno, per tutto ciò che riguarda invece il mondo inter, vi do appuntamento alle ore 19.30 sulla piattaforma Sky, canale 232 Inter Channel.